Dagli ingegneri ai cuochi sono 160.000 i posti vacanti ad alta qualifica che le agenzie per il lavoro stanno ricercando per l'estate, la maggior parte al nord ma anche nel resto d'Italia. Le maggiori opportunità sono per le professioni ad alta qualifica, come ingegneri di software, i sistemisti, analisti informatici, i database administrator, i progettisti, esperti in infrastrutture ma anche project manager, esperti in controllo di gestione. Forte anche la richiesta per operai specializzati, camerieri, bagnini, contabili, esperti, receptionist e cuochi.